I fondi da destinare alla riqualificazione del Policlinico di Chieti stanno suscitando tensione all'interno della maggioranza in regione. Ad alimentarle è stato ieri pomeriggio l'ex assessore regionale ed ora capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo con una nota a cui ha allegato una comunicazione del Dipartimento Sanità nella quale si parla di 49 milioni di cofinanziamento da destinare al Santissima Annunziata. Le asle di Chieti e l'Aquila penalizzate nonostante i conti siano in ordine, attacca Febbo. Mentre per Teramo e Pescara la regione ha addirittura autorizzato lo sforamento dei tetti di spesa per il personale di circa 5 milioni di euro permettendo così la proroga di 5 mesi dei contratti degli infermieri e degli ossi in scadenza prevalentemente al 31 luglio. Non solo ma apprendo con stupore e rammarico che per i fondi da destinare al nosocomio di Chieti si sta prefigurando un venir meno agli impegni presi in quanto a fronte delle risorse promesse, 60 milioni di euro, a oggi la regione e nello specifico il Dipartimento regionale ne metterebbe a disposizione solo 49. Spero, conclude Febbo, facendo riferimento a una riunione avuta all'Università di Chieti dal direttore del Dipartimento da Mario, dall'assessore regionale Verì, il manager dell'ASL Shell e il rettore Caputi, anzi invito i vertici sanitari regionali a tornare sui propri passi e a mantenere gli impegni presi. Stamani la replica dell'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, il progetto di infrastrutturazione da 49 milioni di euro, dice, è frutto di un lavoro di condivisione tra regione, ASL e università che per la prima volta da anni hanno raggiunto un'intesa piena su tutti gli interventi. Il piano complessivo prevede un investimento totale di 60 milioni di euro che per la parte non coperta dall'articolo 20 sarà sostenuto con altre linee di finanziamento. Leggo con stupore, ha rimarcato l'assessore, le dichiarazioni di chi parla di danno all'ospedale di Chieti per i 49 milioni di fondi destinati dalla regione al Policlinico Santissima Annunziata. Sarebbe stato meglio fare come si è fatto negli ultimi 25 anni e ancora di più nella precedente legislatura, cioè destinare zero finanziamenti a Chieti.